Un'agenda è fatta di anni, mesi, giorni e ogni giorno una nuova generazione di idee si fa spazio in modo sostenibile, inclusivo e intelligente. E i gente non sarà facile, ma proviamoci. Siamo qui per le stesse ragioni. Continuiamo a collaborare, immaginare, creare. Cerchiamo nuova energia, pulita, rinnovabile. Rinnoviamo il modo di interagire, io e te, lui, lei, loro, tutti. Facciamoci sentire, insieme ce la facciamo. Partecipa al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2022. Mettilo in agenda, stiamo agendo. Contribuisci al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030. Grazie.